Io ho sentito il rumore, era entrato uno con la lanterna che è in stanza mia, verso le quattro. A parlare è il fratello e coinquilino di Don Sigfrido Crestani, il parroco di Longare, che cercando di impedire l'ennesimo furto in canonica, ha invece subito la violenta reazione dell'aggressore. Qui tutto si è svolto, poi è uscito di lì, ho visto tutto acceso, sono venuto giù ai sky, che cosa succede qua? Poi ho visto che il fratello sanguinava. Don Sigfrido ha sbattuto la testa subendo un trauma cranico cadendo a terra. C'è la sua stella dei re magi qua. Poteva andare molto peggio, la prognosi fortunatamente è di una decina di giorni, ma la ferita vera è un'altra. Un parrocchiano che lui conosce, che ha trattato altre volte. Il presunto ladro e aggressore sarebbe infatti uno straniero, che al momento ha fatto perdere le proprie tracce. Una vecchia conoscenza per altri fatti simili in paese, che oggi reagisce sgomento alla notizia. Il parroco è una brava persona. È una parola per tutti, dunque è troppo strano che lo aggrediscono colì. Anche troppo buono, troppo buono. Quindi questo ragazzo doveva essere fermato prima. L'accoglienza e la disponibilità sono nobili virtù, che però stanno perdendo sempre più sostenitori. Longare a breve infatti si appresta ad ospitare una nuova comunità di richiedenti asilo. Ma certo, preoccupa, siamo preoccupati. In mezzo a 20 di scuro ci sarà uno o due che ti mettono le mani ad osso o fanno i criminali. Il buonismo è distruttivo. Noi siamo qui non solo per fare l'ospedale da campo, ma le scuole per promuovere l'uomo nella sua giustizia e voglia di lavorare.